Salve a tutti ragazzi sono Andrea e benvenuti in questa nuova puntata di mod Iniziamo subito, la mod che oggi vi farò vedere è la B9 Procedural Parts ovvero la mod che ti permette di creare delle ali procedurali veramente fatte molto bene e anche le texture sono veramente fatte bene Allora, iniziamo subito, prenderò un Aeris 3A così come fra virgolette aereo di modello per farvi vedere le parti aggiunte quindi andiamo a cancellare subito Allora, troviamo B9 PCSA Procedural Control Surface ovvero è l'equivalente di una winglet o comunque una control surface ovvero una... praticamente con la superficie che si muove adesso non riesco a spiegarmi, si muove praticamente tipo il timone o comunque tipo la winglet, spero si capisca Allora, vediamo bene, qui troviamo vari valori intanto questo, giustamente il Procedural Control Surface ti permette di vedere il PCO, lo Yo e il Roll Allora, però prima vi faccio vedere tutte le parti almeno abbiamo ovviamente il Control Surface di questo genere ovvero il classico, tipo i Elevon e la Procedural Wing semplice, ovvero la classica ala che si può modificare iniziamo quindi a vedere direttamente dall'ala le cose aggiunte intanto il rumore di scarichi random si può modificare l'altezza, ovvero lo spessore che arriva da 0,48 fino a 0,8 ok, da 0,48 a 0,8 quindi si possono anche fare ali per aerei abbastanza grandi quindi adesso mettiamo un 0,16 perché essendo... no, forse... sì, vabbè, può andare bene abbiamo il Side A e il Side B Type ovvero il tipo di superficie che può essere con la texture tutta unica con le classiche texture di tipo parti... parti meccaniche... no, parti meccaniche come spiegarmi? tipo le parti di... di ceramica però non nera, non so perché comunque i classici pezzettini assemblati di rivestimento e ovviamente anche il rivestimento nero quindi tra la 4 e la 3 cambia giusto il colore e anche giustamente la parte sotto quindi stessa identica cosa quindi se uno magari vuole fare un aereo che non... cioè non un SSTO o comunque un qualcosa che va nello spazio e che quindi deve rientrare può anche cambiare il colore cosa che... una cosa del genere dovrebbero mettere alle parti della... alle parti della... comunque ritexturizzate ma non so parlare e così da poter cambiare il colore che... vedere gli space plane che rientrano senza avere la superficie fatta di ceramica scura sotto è un po' brutto allora andiamo... passiamo adesso proprio all'editing cioè la possibilità di farlo procedurale intanto abbiamo il semispun ovvero la possibilità di farla più lunga la... width che non riesco mai a pronunciare che sarebbe praticamente la larghezza sia della parte anteriore cioè della parte più esterna che della parte interna si può scegliere anche per quanti metri giustamente e poi c'è l'offset giustamente e il bello è la texture come cambia a me fanno impazzire quando fanno queste cose veramente fatte bene cioè restano i vari pezzetti ed è bellissimo in più giusto mi sono dimenticato di far vedere le ultime cose abbiamo i tipi di edge cioè di bordi abbiamo la possibilità questa è la parte anteriore L sta per tipo anteriore ovvero se classica così staccata se con il bordino fatto tondo se il bordino appunta il bordino appunta allungata come quello dietro stesso vale per quello dietro in più la possibilità anche di cambiare il colore giustamente sia davanti che dietro e il colore è unico però se non mi sbaglio non vorrei si è unico per ogni aletta e in più anche la dimensione una cosa che però non cambia e che penso si cambi direttamente facendola fina no ok no è questo bordo non me lo fa non lo fa cambiare pensavo lo facesse cambiare ad essere proprio sincero non c'è il cambio per questo che è una cosa che forse sarebbe abbastanza necessaria perché se uno vuole fare delle ali fatte come Dio vuole allora iniziamo adesso farò giusto così delle ali che saranno fatte molto molto brutte lo dico subito faccio l'offset che forse è troppo se mi spanno giustamente si può anche cambiare direttamente da qua che poi sparisce ma è giusto una cosa indicativa se uno fa oddio perché mi cambia il motore se fa tipo 4 5 6 ti va sul 6 giustamente per rendere le cose più rifinite allora facciamolo di 2 e qualcosa ok può andare bene e adesso passiamo a vedere intanto una procedura contro surface per questa parte dietro gliela andiamo a fare quindi sempre 16 avevo messo non me lo ricordo si ok 16 il colore lo stesso oh bravo lo stesso intanto deve essere ruotata quindi la ruoto oh giustamente non l'ho fatta doppia il bello è che salva le salva le dimensioni quindi io posso sdoppiarla cioè ho già fatto la forma la sdoppio senza problemi allora andiamo a fare questa anche se è un po' bruttarella a vedersi no direi farlo un po' più grande basta a posto giustamente semi span va proprio wide u un po' di meno e con l'offset che non deve esagerare come è fatto adesso ok e su ok magari uno può per evitare di far vedere quella cosa orribile di bordino può fare una cosa del genere non l'ha neanche qua è quello il fatto cioè non ha sia il size come al solito però non ha la possibilità di cambiare la parte sopra e la parte sotto spero la aggiungano il primo possibile e in più abbiamo il control surface quindi il classico control surface che è leggermente complicato da piazzare crea un po' di problemi a parte io sto con il tondo quindi anche normale ok direi che può andare sempre me lo fa solamente ah no ok questa è la larghezza l'altezza sempre a 16 la facciamo estendere per tutta l'ala il bel è anche la possibilità di regolarla perché stock non c'è la possibilità di farlo poi si può vabbè giustamente cambiare anche il tipo di materiale che a dire la verità non so cosa cambi ah ok il materiale in sostanza è la texture che è sotto e poi c'è quella in punta che vabbè allora direi di fare una cosa però questo lo lasciamo bianco il bordo questo lo lasciamo bianco almeno così da fare qualcosa forse un po' la no l'altezza è giusta ok qui può anche andare in offset e rientrare è anche molto molto carino esteticamente fare una cosa del genere però quei bordi a me di sti bordi tagliati mi fanno schifo sono proprio sincero non si possono vedere allora vediamo un po' ok si può solamente aumentare e non diminuire forse questa è un po' una pecca perché intanto l'evalon è più piccolo e poi non tutti a non tutti piace avere comunque parecchia sporgenza a me personalmente non piace adesso però facciamolo un po' più ok si dai giustamente no ok adesso voglio provarlo perché è la prima volta che la utilizzo proprio nella mia vita l'ho presa praticamente adesso e messa allora aumentiamo no la semi span no ok era la base e si può magari traslare indietro farla ancora un po' più grande allora no perché lo span no ok qua mi proprio non mi è bruttissimo vederlo con questi bordi qua andiamo di ammettere giustamente il carrello di atterraggio su cui anche vi informo che la squad sta lavorando anche ad altri modelli perché è una cosa che hanno detto non mi ricordo tanto tempo fa dovevano essere anche nella 090 ma non sono riusciti a mettere ok più o meno sono dritti vero però devono essere un po' più quanto adoro glitchare con la nuova versione madonna allora un po' più esterni ma però non tanto esterni da diciamo una cosa glitching time ok proviamo la prima cosa che abbia mai fatto con sta mod l'ala poi fa cagare in un modo incredibile allora iniziamo ho utilizzato tutte le singole parti utilizzabili oddio è un po' brutto vedere sto coso qua allora ok non è tutta forse l'ho messe troppo troppo in basso si oh mio dio yeee viva le mie ali fatte molto molto brutte ok si dovevo forse l'ho fatto troppo non lo so cioè qualcosa sicuramente va male a parte che serve devo mettere l'SIS e poi forse è perché va a cambiare il lift è differente quindi magari può oh grazie caraballo poi ste ali fanno proprio cagare lo dico fatte brutte brutte di così anche se mi ci mettevo non ci riuscivo madonna magari fatte con l'offset al contrario le ali a freccia invertita adesso con l'SIS adesso ce ne metto 40 per cercare ok oh no no proprio l'ala che fa cagare e che o crea troppa portanza perché madonna mia più o meno no proprio zero yeah sono il mago delle ali schifose allora io un po' di fare no magari fatte più piccole con questo un po' più vicino anche questo facciamo una cosa io gli levo i timoni qua e io ne metto uno fatto l'allegra winglet dietro anche se non va a cambiare molto questi ali fanno proprio pena madonna mia beh intanto è una cosa positiva autoinsultarsi fortificano una cazzata madonna allora allora proviamo no sono sicuro che hanno problemi si infatti hanno problemi cioè proprio allora facciamo una cosa basta faccio senza fare 2000 piegature le metto qui al centro like like a boss e gli metto le ali cioè le carriolo l'atterraggio però forse le abbasso proprio poco poco perché se no non tocca terra ok speriamo incrocio le dita la quindicesima volta magari questa è quella buona non so se la terza la quarta la quinta volta ho perso il conto yuppie 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 oh fanculo niente proprio queste le ali procedurali mi odio proprio si accappotta così io non essendo un esperto in aerodinamica cioè perché proprio io zero neanche riesco a spiegare riesco a sistemare questa cosa sicuramente se l'avesse fatto albe l'avrebbe fatta sicuramente molto meglio di me proprio adesso fanno più schifo di prima cioè era meglio prima vabbè atterriamo tentiamo di fare un atterraggio molto cioè proprio allora o il lift è diverso ed è un po' sballato proprio sono io che co stiali procedurali madonna boom yeee intanto quelle sono indistruttibili cioè non gli fai un cazzo qui c'è un pezzo che sta volando lol ah è giusto è l'intake che rimbalza ah esplosa almeno quella quindi le ali oh mio dio ma non riesco proprio a spiegare sicuramente è il lift che è differente in qualche modo è showing data quindi no però vabbè dalla superficie totale il costo il coefficiente di drag è 0,68 il coefficiente di lift è 1 fammi vedere le delta drag è 0 ok il drag è molto più piccolo e il lift è più alto quindi boh non ah i serious il bel è che cambia anche il costo dipendente da cambia si no ok cambia in teoria ma in pratica non è variato yeee beh diciamo che è la prima release che fanno quindi direi che per me può anche può anche essere diciamo sufficiente anche se forse un po' il lift perché io mi ricordo che con le ali la roba comunque della B9 la B9 aveva le ali si ce l'ha le ali e riusciva a fare aerei che comunque volavano in modo meglio di sto coso quindi non so spiegare il perché a parte fa proprio schifo sti ali che ho fatto quindi un saluto a tutti dal team di Kerval Italia da Andrea ciao 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 ciao